è vincolo di mandato sì, è vincolo di mandato no. La carta costituzionale, la nostra carta costituzionale dice che i parlamentari non ce l'hanno il vincolo di mandato, la nostra carta costituzionale, e invece il Movimento 5 Stelle dice che i parlamentari dovrebbero avere il vincolo di mandato e hanno ragione, dipendendo da lì che sia chiaro, io sono un senafino massonico, me non si scherza, io sono tornato qua al bar dei cinesi una volta a Matovana e allora io sfoglio il cuore della sera, me lo trovo qua al bar dei cinesi, eccolo qua, il vincolo di mandato è fascismo, la battaglia dei dissidenti 5 Stelle, vedete che bello? qua c'è anche il nostro capo del governo, mi pare che questa sia Barbara Lessi, guardate che bella copia, Barbara Lessi, guardate che bella copietta. Ora vediamo un po' di che si tratta, allora è il vincolo di mandato, allora i parlamentari quando vengono eletti, vengono eletti perché stanno dentro un certo partito, no, i parlamentari stanno dentro un certo partito e dicono che il Parlamento porteranno avanti il programma di quel certo partito. Poi nel corso della legislatura cambia un'idea e cambia un'idea e magari si avvicinano al programma di un altro partito, questo si chiama non avere vincolo di mandato, non c'è vincolo di mandato, come dice la carta costituzionale. Ma come nasce questa storia? Come nasce questa storia? E questa storia nasce al tempo della rivoluzione francese, al tempo della rivoluzione francese, si discusse tanto all'assemblea costituente e anche dopo, se i parlamentari dovessero avere il vincolo di mandato o essere liberi dal vincolo di mandato. Siccome la rivoluzione francese fu una rivoluzione della media e alta borghesia e poi si parlava di egalità, libertà, fraternità e allora alla fine prevalsi l'idea che i parlamentari dovessero essere liberi, cioè non dovessero avere il vincolo di mandato. I parlamentari decisero i costituenti francesi nel 1789, 1790, 1791, i parlamentari una volta eletti sulla base del programma di un certo partito, poi in Parlamento possono pure cambiare idea. La stessa cosa la dice la nostra carta costituzionale, quale dice appunto che i parlamentari non hanno vincolo di mandato. Poi arrivano i pentastrellati che cominciano a mettere in dubbio che questa faccenda sia una cosa buona. Dicono no, non è una cosa buona, perché se uno viene mandato in Parlamento sulla base del programma di un certo partito e poi nel corso della legislatura deve rispettare il programma di questo partito, questo movimento. Ok? E adesso vedremo dove andremo a parare cari amici. Io sono del parere che uno ce lo deve avere il vincolo di mandato. Io sono di questo parere e uno ci deve pensare, non è che poi cambi idea, perché se il parlamentare poi cambi idea, diciamo che ha preso per i fondelli tutti coloro che lo hanno eletto. C'è un certo programma di un certo partito e gli elettori che eleggono in Parlamento perché tu dici che porti avanti il programma di quel certo partito, di un certo movimento e tu nel corso della legislatura devi portarlo avanti il programma di quel certo partito per il quale hai avuto i voti per andare in Parlamento. Se non sei più d'accordo ti rimetti e perdi l'appannaggio. Ci sarebbe pure questa soluzione, no? Se tu non sei più d'accordo ti rimetti e perdi l'appannaggio. Non è che puoi avere l'uovo e la gallina. Il serafino massonino pensa così. Capito? Non puoi avere la botte piena e la moglie ubriaca. Che sia chiaro. Che sia chiaro. Se tu vuoi la libertà e hai cambiato idea, niente, li devi rimettere. Per cui io presumo che si andrà verso l'introduzione nella Carta Costituzionale del vincolo di mandato, il vincolo di mandato per i parlamentari. Precisando che se uno cambia idea, può cambiare idea. Ma non può prendere per i fondelli gli elettori. Per cui uno cambia idea però si rimette. Non è che si sposta qua. Come se fa oggi al gruppo misto. Passa un altro partito. E no? Ti rimetti. Obbligo di rimettersi. Ok, cari amici? Alzo lo spracta Serafino Massoni. Alzo lo spracta Serafino Massoni. Alzo lo spracta Zara Dutra. Ecco qua, cari amici. Eccomi qua, eccomi qua. Eccomi qua, cari amici. Bene, 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 bene. Vedremo come andranno a finire le rose, cari amici. Vedremo. Ok. Qua c'è una bella foto. Bravo, Corriere della Serafino. Guardate che bella coppia, guardate che meraviglia. Barbara Lezzi è il nostro premier. Guardate che meraviglia. Ok, 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 cari amici. Ok, ok, ok.